Il 125esimo annuale della fondazione dell'arma dei reali carabinieri nell'urve, il duce accompagnato dal ministro segretario del partito e dal comandante dell'arma, generale Moizo, passa in rassegna i reparti schierati lungo via Crescenzio, tra le manifestazioni d'entusiasmo di una fiumana di popolo che stenta a tenere il passo del condottiero. Raggiunto il foglio d'onore, eretto in piazza Risorgimento, il duce procede alla consegna di quattro medaglie d'oro al valore militare alla memoria degli eroi, appuntato veri Leandro, parabiniere Lorusso Antonio, Cali Francesco e Pabbaglia Giovanni, a cui seguono dieci medaglie d'argento e diciotto di bronzo al valore militare, sei medaglie d'argento al valore civile e tre premi sulla fondazione per il monumento al carabiniere che rappresentano un nuovo alto bilancio di gloria per l'arma fedelissima. a 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 Moizzo, accompagnato la sua Stato Maggiore, faceva deporre una corona d'oro inanzi all'ara del Militagnoto.